amici di youtube ben trovati da marco liguori per introdurre il video di oggi potremmo parafrasare un vecchio film la stangata film degli anni 70 con robert redford e paul newman è proprio una stangata quella che attende milioni di italiani la rare che è l'autorità di regolazione per energia rieti ambiente ci fa sapere che la bolletta del gas a partire dal mese di ottobre avrà un incremento del 11,4 per cento e se vi sembra troppo aspettate di conoscere l'entità dell'aumento della bolletta dell'elettricità che avrà un rincaro pensate del 15,6 per cento sicuramente una brutta notizia che inciderà non poco sulle nostre finanze ciao a tutti